La domanda è che questo ha fatto master a te, giusto? È il canovaccio di master, chiedo. Allora, credi nella resurrezione sia in senso religioso o tecnologico? E se no, come ti poni di fronte al fatto che esiste il tutto noi compresi? Allora, io mi considero di dottrina schopenhaueriana. Io ritengo che la nostra essenza sia energia vitale, sia Fille zum Leben in tedesco, volontà di vivere. Quando il mio cervello verrà distrutto, la mia personalità sparirà. Quando io morirò, il mio carattere, i miei tratti caratteriali spariranno. Quello che rimarrà di me sarà la batteria. Non so dove andrà la mia energia vitale, non so in cosa si reincarnerà o incarnerà, non lo so questo. Sicuramente l'energia non può né sparire, nulla si crea, nulla si distrugge. Io penso che la volontà di vivere sia ciò che resta di noi. Forse Master di diverso avviso, io una volta ho visto un suo video sulla reincarnazione attraverso dei cyborg costruiti con ingegneria futura, nei quali noi andremo a reincarnarci dopo la morte. È una teoria un po' coraggiosa, un po' fantasiosa. Io al momento sto con schopenhauer. Parliamo, non so proprio di questa teoria. Non è proprio esattamente così, sicuramente quando il cervello è morto, è morto, la materia organica si disgrega, ritorna a essere particelle, atomi, veniamo tutti già da atomi, noi stessi siamo atomi. Io quello che chiedo, più che pensare al dopo, io vi chiedo del prima, cioè prima tu dove eri? Tu mi direi, non c'ero, adesso ci sei. E quindi se adesso ci sei, perché non potresti esserci anche dopo? Tu in questo momento sei tutto computabile, quello che c'è in te si può computare facilmente a livello un po' più quantico. Quindi il punto è, potrà essere riprodotto? La domanda è adesso no, ma domani sì. Semplicemente questioni di conoscenza e di potenza e di calcolo. E si potrà fare. La reincarnazione intesa nel senso che tu, la reincarnazione se non c'è la memoria storica di quello che eri, è senza senso. Cioè allora uno fa, si reincarna in una farfalla, in una lucertola, a noi ci può interessare. Oppure se io mi reincarno in un'altra persona che non c'è niente di me, che cos'è? Io non sono quella persona, io sono io. La risurrezione è quella dove noi abbiamo la nostra identità storica. Stai fresco. È quello che promette la religione. Però, voglio dire, siccome noi siamo computabili, tu prima non c'eri, adesso ci sei, si potrà tutto rifare. Chiudo con questo esempio qui, lo faccio spesso perché lo capiscono anche i bambini. L'esempio è questo, noi prendiamo tanti Lego, no? Che sono sul tavolo. Ci costruiamo, faccio costruire a un bambino una casetta. Dico, costruisci una casetta? Lui la costruisce, no? Io ho detto, ascolta, ma questa casetta adesso l'hai costruita. Prima dov'era? Lui dice, no, non c'era. Ah, ok. E dov'era? Era lì. Noi diremmo, eravamo come energia, no? Dico, butta giù la casetta, decomponi, lui la ributta, non c'è più, giusto? Gli dico, la casetta c'è adesso? Il bambino dice, queste domande, i bambini mi rispondono così e dicono, no, la casetta non c'è adesso. Ma si può ricostruire? Lui fa, sì, come? E la ricostruisce, il concetto è questo. È chiaro che l'essere umano non è come una casetta, ma è computabile, è tutto quello che è computabile, è ricostruibile. Ci vuole conoscenza, energia e potenza di calcolo. Ma tu parli di, scusami, io per carità non sono un fisico quantistico, non mi intendo di meccanica quantistica. Ma tu parli di ricomporre cosa? Lo spirito, l'anima, la mente, il corpo? Tutto. Tu, Marco Pitti, verrà ricomposto esattamente come era, perché tutte le informazioni tue sono reversibili, cioè si possono recuperare e tu, dopo, bisogna stabilire in quale momento storico verrà risorto. Ma è come la casetta, la puoi sempre recuperare e ricostruire. Tutto il pacchetto, spirito, anima, mente, corpo? No, spirito non c'è. Anima, mente, corpo? Se è organico, il tuo cervello che pensa, sono atomi che pensano, e quello verrà ricomposto in una simulazione, una simulazione perfetta. Quindi tu non credi che sia il pilota e che il corpo sia un veicolo? No, è tutt'uno, sì. È organico, è fisico, è energia, come dici te, perché poi viene disgregata, non è più organizzata, ma si può ricomporre, perché come dici te non finisce mai, c'è sempre. Ah beh, stando così le cose, con una visione meccanicistica, è assolutamente realistico quello che tu proponi. Ma questo è quello che hanno detto vari scienziati, andando sul lato matematico della questione quantistico, si può fare. Le teorie scientifiche in merito, in realtà, su questo campo qua sono apertissime, spaziano dalla coscienza, cioè perché noi siamo coscienti, perché non è definibile. No, 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 tu togliendo la parte metafisica, togliendo la parte metafisica e restando sul fisico, ha perfettamente ragione. Sì, ma le due cose però coesistono, cioè nel senso, io posso creare un clone di Marco, ma non è Marco. No, 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 no. Cioè nel senso, posso ricostruirlo come se fosse la casetta dell'Ego, ma... Sì, non è così, non è così. Gli atomi, un atomo non è indistinguibile da un altro atomo, due atomi di carbonio, non c'è modo di... cioè sono uguali. Lui ho detto materia pensante, se ha ragione lui, uno può clonarti e lui diventa te, e tu diventi lui. Sì, è così. Due atomi non si possono distinguere in nessun modo, è un principio della fisica, quindi se uno verrà ricomposto di com'era, è lui. Qui ci sarebbe anche il famoso esempio filosofico della nave di Teseo, no? Dice se tu scomponi la nave e la ricostruisci è sempre quella? Secondo la fisica quantistica è sempre quella. Certo, ma coscienza compresa, cioè nel senso... Coscienza compresa. Tu adesso che stai pensando, sei un ammasso di neuroni, di atomi che sono organizzati e stanno lavorando, è tutto lì. Non è che... capisci? L'autocoscienza poi è un fatto, diciamo, di... Anche gli animali hanno coscienza, anche un simpatiale ha coscienza. Beh no, questo in realtà non possiamo... Che gli animali abbiano coscienza in realtà no. Cioè non possiamo... uno non possiamo saperlo, due c'è un molto dubbio su questo. No, no, ce l'hanno a livelli diversi. Lo scimpanseo ce l'ha. Non si intendi allora per coscienza. Una lucertola meno, ma ha coscienza del mondo che è in cui è. Ha coscienza di stare vivendo? Ha coscienza che domani morirà? No, che domani morirà no, ma tutte le creature hanno un rapporto con la realtà, interagiscono. Noi le abbiamo a livello più elevato perché siamo autocoscienti, ma tutti gli animali, gli insetti, tutti i fumi di vita hanno una forma di interazione con la realtà. L'interazione è diversa però quella lì è una reazione, cioè reagiscono a degli stimoli che loro hanno per la loro fisologia, hanno fame e hanno cercato a mangiare. Ma anche noi. Noi no, noi siamo, noi riusciamo a razionalizzare le cose. Perché abbiamo le leggi? Noi, cioè senza la razionalità che abbiamo, io mi arrabbio con Marco, lo picchio. Invece riesco ad avere autocontrollo, che è innaturale, e di conseguenza non lo picchio, perché ho coscienza di me. Ma non c'entra niente, io sto parlando dell'atto un po' più profondo del fatto che tu pensi, è un fatto prettamente... E' questo che ci differenzia però dagli animali. Ma questo è un altro discorso. Scusi, lei è un conduttore, conduca. Questo è un altro discorso. E no, ma adesso siamo entrati su altri campi però. Ah, ho capito. Mi è strano. Il fatto che abbiamo fatto leggi sociali è un altro discorso. Stiamo parlando del fatto di un cervello che pensa... Però per me è inerente sul fatto che abbiamo una coscienza, di conseguenza un libero arbitrio, che non reagiamo solamente agli stimoli. Riusciamo ad elaborare. Sì, però quando uno è morto il cervello è morto, non c'è più niente. Ma chiaro. Il punto è se potremmo risorgere quella... Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. Che con danga.